Ciao a tutti, volevo lanciare un breve videomessaggio ad Alessandro Di Battista di cui condivido molte posizioni in tema di politica estera ma che ultimamente ho anche sentito dire in televisione, in qualche trasmissione essere favorevole, anzi desideroso, di arrivare ad un'unione politica dell'Europa, partendo con un seggio comune per l'Unione Europea al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e anche ad avere una politica estera comune tra i paesi europei, cosa che ritengo sbagliatissima, siamo nazioni diverse, ogni nazione punterà inevitabilmente a fare i propri interessi che spesso non coincidono e questo desiderio di arrivare ad un'Europa più unita a me ricorda molto il programma Più Europa di Emma Bonino che non mi piace per niente e credo che se iniziamo a copiare il programma di Più Europa inevitabilmente andremo a copiare anche i suoi risultati elettorali, quindi stiamo un po' attenti. Un saluto, buona giornata a tutti.